Tartufo, ovvero vita autocensura e morte in scena del signore di Molière, nostro contemporaneo. Molière stava recitando e provando il tartufo e a un certo punto smette di recitare e pensa ad alta voce mentre tutta l'azione si ferma. Ma così tartufo vince. Il sipario cala sul suo trionfo. E così deve essere. Così le cose vanno. Non me lo permetteranno mai. O sono io che non me lo posso permettere. Abbandona la sua poltrona, in cui era installato come tartufo, e si avvicina alla ribalta. Il mio teatro troverà un giusto filone, ha detto il re. Eppure il mio filone è questo, il veleno di cui si è imbevuta la mia lingua, toni neri, le mostruosità della nostra vita, mostrare i tratti terribili del mio tempo, un tempo di indegnità, di viltà, di spogliazioni, persecuzioni, stragi, tradimenti, la mia incapacità di credere che un processo storico, anche grandioso, possa cambiare la nostra natura. ma avete ragione voi, monsignori. Non c'è posto qui per questo moglier. A meno che, a meno che, ecco, un capovolgimento improvviso, totale, come nelle favole o come nelle recite edificanti dei collegi. Ma sì, cinque minuti di lieto fine, di giusto filone, non possono abolire l'effetto di cinque atti. Avanti, moglier. Avanti. Cinque minuti di leccate. E più grossa è la leccata, più resteranno vivi i cinque atti. E nel dire quest'ultima frase, moglier va alle spalle dell'ufficiale giudiziario, fermo, nel gesto di puntare il bastone contro orgone. Gli prende la mano che impugna il bastone, gliela fa posare a terra, poi torna a sedersi in poltrona nell'atteggiamento tracotante di tartufo. Mentre intorno a lui, come in una pellicola girata al contrario, gli attori riprendono le posizioni che avevano prima che l'ufficiale arrestasse orgone. L'ufficiale. Eccolo il mio mandato. Seguitemi all'istante nella prigione adatta come vostra dimora. Alla parola vostra, l'ufficiale punta il bastone contro moglier tartufo. Chi? Io? Signore? Voi? E perché mai in prigione? Siete l'ultimo voi a cui darne ragione. Signore orgone, rincuoratevi, non abbiate paura. Viviamo sotto un re nemico della frode, un re di cui l'occhiata fa giorno dentro i cuori, un re su cui non ha presa l'arte dell'impostura. Grazie.